Quali opportunità e quali ostacoli ci sono per le imprese europee per andare sul mercato In India ci sono molte opportunità per la manufattura di prodotti consumi e prodotti di ingine. In India avrà una classe migliore di circa 250 milioni di persone, che è quasi 60% dell'Europa, e in 5 anni avrà probabilmente la classe migliore europea. Per un risultato, ci sono molte prodotti consumi, prodotti consumi, prodotti consumi, prodotti usati in casa, o in offices, come manufattura, come automobili. Italia e Germania sono i due paesi europei, che stanno portando l'investimento dell'Europa in manufattura. in India. Inizialmente, l'Unione dell'Unione 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 dell'Unione. Inizialmente, l'Unione dell'Unione 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 dell'Unione. con急 di Kinga Mang dunque. Inizialmente l'Unione dell'Unione 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 deriva in Italia in unaGrace di�로arope, utilizzando la scuola dell'Unione 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 dell'Unione. e anche i mercati globale in termini di Nord Africa e altri paesi perché l'Italia è molto vicino a questi mercati. Quindi vediamo la crescita dell'italiano investimento in India e dell'India investimento in India, che è crescendo circa 20% per anno per i ultimi 5 anni, e credo che continueremo a vedere questa crescita. Grazie a tutti.